Simone Tosoni insegna alla Cattolica, Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, la relazione che presenta si chiama Tattiche e strategie di installazione di Captive Audience Position nello spazio urbano, considerazioni metodologiche sul concetto di spazio negli Urban Media Studies. Grazie Simone per il tuo intervento, puoi cominciare la presentazione. Ok, comincio a condividerla, prima era andato tutto bene, spero che sì, ecco qua. Ok, dovrebbe vedersi, giusto? Sì, si vede e chiudi il mio microfono. Ok, va bene, grazie per la presentazione Stefania e grazie anche agli organizzatori del convegno per avermi invitato. Devo dire che ho trovato la giornata di ieri veramente molto interessante, al di là di ogni piageria, perché ho trovato molti degli interventi, al di là delle differenze poi terminologiche o anche degli interessi specifici, però risuonare con il mio lavoro. Come dicevo, io sono sociologo con un background in Science and Technology Studies, da cui un po' la fatica di tradurre terminologicamente quello che ascoltavo e probabilmente farete la stessa... Alcuni di voi faranno la stessa fatica e sono particolarmente attivo nella sezione Media Citizen Space dell'ECREA, che è il network europeo dei comunicazionisti, dove con una serie di colleghi con background diversi stiamo lavorando a un campo di studi che chiamiamo, che alcuni di noi chiamano Urban Media Studies. Questo è un campo di studi che è andato prendendo caoticamente forma negli ultimi direi dieci anni, ai confini tra Urban Studies e Media Studies, che si pone l'obiettivo di indagare la natura mutualmente costitutiva di fenomeni e processi urbani da una parte e di fenomeni e processi comunicativi dall'altra. In questo senso la domanda di ricerca chiave del campo di studi è come i media contribuiscono a dare forma alle pratiche e alle routine che costituiscono la vita quotidiana della città e a sua volta come l'esperienza urbana modella le nostre forme di coinvolgimento con i media. Ora, per chi viene dal campo dei media studies, chi viene dal campo dei media studies non avrà fatto fatica a riconoscere in queste domande di ricerca il proseguimento e l'estensione del programma di ricerca della tradizione etnografica degli audience studies, con autori come l'Alma, Orley, Silverstone, Moors, che si propongono appunto di indagare il rapporto tra fruizione mediale, pratiche mediali e vita quotidiana. Fino a qualche anno fa, infatti, fatta salva anche qualche rilevante eccezione, penso alla Lemisch negli anni 80, alla McCarthy nel 2001, il fuoco principale d'analisi degli audience studies è rimasto saldamente centrato sullo spazio privato della casa come luogo principale di fruizione mediale. Da 10-15 anni a questa parte, però, la diffusione di tecnologie della comunicazione mobile, come gli smartphone con accesso a internet, device con servizi geolocativi, ma anche la diffusione di schermi urbani elettronici, ha finalmente, in realtà con un certo ritardo, richiamato l'attenzione dei ricercatori sul fatto che gli usi domestici rappresentano ormai solo una parte delle nostre esperienze con i media, spingendoli ad aggiornare le loro agende di ricerca. Agende di ricerca che oggi includono, direi, sistematicamente contesti d'uso come mezzi di trasporto, luoghi di transito, stazioni e altri luoghi pubblici e semipubblici, che è poi il modo in cui il tema della città, il tema dello spazio urbano è entrato nel radar del campo di studi, almeno in modo esplicito, perché faccio notare che, voglio dire, lo spazio privato dell'household è già, in genere, comunque uno spazio urbano. Oggi il sottocampo di ricerca è vivace e in forte crescita, la quantità di studi empirici su media città continua a crescere molto rapidamente. Aggiornate le agende, il campo di studi si trova però oggi ad affrontare una sfida che è di tipo squisitamente metodologico, per quanto debba ammettere che il dibattito metodologico non sia ugualmente vivace, però direi che si stanno confrontando due posizioni. Per alcuni l'apparato metodologico della tradizione etnografica degli Oden Studies è già perfettamente adatto, magari con qualche piccolo aggiustamento, ad affrontare lo spazio urbano. Per un secondo gruppo di ricercatori invece in cui, peraltro, mi riconosco, questo apparato concettuale, cioè l'apparato concettuale che era stato messo a punto per studiare lo stato privato, lo spazio privato e circoscritto della casa, non permette di leggere adeguatamente quello che accade in termini di pratiche mediali dello spazio urbano, e occorre quindi una revisione metodologica più radicale. Questo secondo me è vero per molti dei concetti chiave del campo disciplinare, addirittura anche per quello di audience o di user, ed è vero anche per il concetto chiave di spazio, che è quello su cui farò qualche considerazione in questa sede. L'idea è che lo spazio pubblico urbano mette in evidenza alcuni aspetti delle pratiche di coinvolgimento con i media che erano stati trascurati nello studio delle household, e che quindi studiare le pratiche mediali nello spazio urbano rappresenti un'occasione per rinnovare a fondo il campo disciplinare nel suo complesso. Ora, il concetto di spazio adottato nella tradizione etnografica degli audience studies è quello fenomenologico, cioè derivato, ovviamente, riadattato dalla geografia fenomenologica degli anni 70, con autori come Yifutwan, David Simon, Edward Relf. Il cuore di questa concettualizzazione distingue due termini, lo spazio, con cui si intende una pura locazione, lo spazio geometrico e astratto, e il luogo, che invece è lo spazio, così come ne facciamo esperienza, cioè lo spazio adottato di significato dal punto di vista umano. Lo spazio si trasforma in luogo grazie a pratiche di placemaking, che attribuiscono allo spazio astratto un significato umano e lo investono affettivamente. Questo è un processo che avviene nel tempo, attraverso la frequentazione, attraverso l'investimento esperienziale, e attraverso un processo di habituation che crea un legame di familiarità. Per quanto riguarda la casa, studiata dagli audience studies, le pratiche di placemaking sono proprio quelle pratiche e routine dell'abitare che strutturano la nostra vita quotidiana, in cui rientrano a pieno titolo le pratiche di fruizione mediale, che insieme rendono la casa il luogo della sicurezza ontologica, dell'apitudine, della ripetizione e dell'attaccamento affettivo. Quindi per questi autori abbiamo un'ambivalenza dei media, cioè il loro portato, i media possono essere tanto agenti di delocalizzazione quanto partecipare alle pratiche di placemaking, ovviamente ciò che conta è il tipo di pratiche in cui i media stessi sono presi. Ora, chi lavora con questo framework metodologico estende questo approccio anche allo spazio urbano, perché la casa non è l'unico luogo in cui siamo abituati e attaccati, ma siamo abituati e attaccati anche ai luoghi della nostra quotidianità nello spazio urbano. Se è vero che lo spazio urbano, come già diceva Simmel, è lo spazio dello shock, che in qualche modo è il contrario dell'apitudine e della sicurezza ontologica, pensiamo anche solo ad esempio ai continui stimoli pubblicitari che riceviamo nello spazio urbano. È però anche vero che attraverso la ripetizione della routine, di cui fa parte anche la fruizione mediale, sviluppiamo un'abitudine che in qualche modo ci impermealizza rispetto a questi shock e ci permette di abituarci allo spazio, a ricostruire una sicurezza ontologica nello spazio urbano che non è la stessa ma è che è simile a quella della casa. Anticipo una slide che vedremo più avanti per fare un esempio e la slide di cui sto parlando è quella a sinistra in cui vediamo una cabina telefonica. Qui ovviamente, questa si tratta ovviamente di una campagna pubblicitaria dove l'interpellazione al cittadino avviene creando una sorta di shock, cioè installando nello spazio pubblico di Milano, quella è la stazione Cadorna a Milano, il simbolo di un altro spazio urbano, Londra. Questa dissonanza in qualche modo rompe il normale regime percettivo del soggetto che transita e crea uno shock che richiama l'attenzione. Nello specifico era la pubblicità di un parrucchiere, te ne accorgevi se ti avvicinavi e andavi a vedere cosa diavolo era quella cosa. Questo è vero la prima volta che l'incontro, la seconda volta che l'incontro è possibile che richiami ancora la mia attenzione creando questo piccolo shock, dalla terza a quarta volta io sono abituato, non solo da una parte smetto di vedere come shock la presenza di questa cabina, cioè divento abituato alla presenza della cabina, ma addirittura in un processo che nella casa si chiama di domestication inizio a prendere questa cabina nelle mie pratiche quotidiane urbane, cioè ad esempio viene utilizzata per darsi appuntamento, ci vediamo vicino alla cabina e via dicendo. Sostanzialmente questo è il modo in cui l'approccio fenomenologico affronterebbe, affronta questo tipo di caso. Ovviamente diversi vari autori, tra cui Sean Moores, si sono sforzati di rivedere e aggiornare questo approccio e la concettualizzazione fenomenologica di spazio. Lo sforzo principale è stato quello di tentare di reintegrare il tema della materialità, dello spazio e dell'approccio stesso. Qui il riferimento principale è alle non-representational theories nella geografia umana contemporanea, penso al lavoro di Nigel Trift, che ci stanno indicando, stanno indicando agli urban media scholars che habituation non è un processo che riguarda unicamente l'attribuzione di significati simbolici. È anche qualcosa che avviene a livello precognitivo quando il nostro corpo si abitua allo spazio, memorizza i movimenti da compiere al suo interno e i modi con cui interagire con gli oggetti, compresi nello spazio, inclusi i dispositivi mediali. Tutti questi aspetti sono oggi presi in considerazione quando si affrontano i processi di habituation. Qui ovviamente c'è tutto il tema del rapporto affettivo, nel senso di affects tra corpo e materialità dello spazio. Ma in ogni caso lo schema concettuale resta lo stesso. Abbiamo lo spazio, abbiamo pratiche di placemaking e abbiamo la costruzione o a volte anche la distruzione di luoghi. Ora, secondo me questo modo di concepire lo spazio ci permette di leggere alcuni aspetti fondamentali del rapporto tra pratiche di frizione mediale e spazio urbano, ma ce ne nasconde degli altri. Per mostrare perché voglio presentare brevemente uno o due casi empirici, scelti ovviamente malevolmente, cioè scelti per sottoporre a stress test l'approccio fenomenologico, per mostrare i limiti dell'approccio tradizionale e cercare di capire come lo si può rilavorare. I casi che vado a discutere sono degli esempi di quelli che definisco captive audience positions nello spazio urbano, cioè spazi che in qualche modo ci forzano ad assumere la posizione e il ruolo sociale di un audience nello spazio urbano. Ovviamente il mio interesse per le captive audience positions non è unicamente metodologico, perché c'è anche una questione di potere in gioco, in questi casi, il potere di forzarci ad assumere il ruolo sociale di un audience e quindi di costituire una serie di persone in un audience. Per questo motivo, se ho il tempo di farlo, ne presenterò due, una organizzata dall'alto, cioè dall'attore che ha il controllo dello spazio, e una dal basso, cioè dall'attore che invece non controlla lo spazio. Quindi strategie tattiche di dispiegamento delle captive audience positions. chiamo, uso il termine captive audience position e non captive audience, che è più comune in letteratura, perché secondo me un audience non è mai veramente prigioniera, perché io posso sempre evitare di sottopormi ad una performance comunicativa, ad uno spettacolo mediale, semplicemente distogliendo lo sguardo, l'attenzione, leggendo il libro e facendo altre cose. Quindi preferisco focalizzare sullo spazio che su i suoi effetti sulla persona, da questo punto di vista. Allora, il primo caso dove la captive audience position organizzata dall'alto si trova, o meglio, si trovava, prima del lockdown, alla stazione Cadorna, che è una stazione di media grandezza a Milano, da cui transitano circa, transitavano tutto questo prima della pandemia, oggi non c'è più una captive audience position, vedrete bene perché, ogni giorno circa 100.000 viaggiatori, ed è una stazione che serve l'area nord di Milano, ovviamente è la stazione che prendo io per andare a lavorare. Allora, lo schermo in foto, sulla destra, è uno dei 68 schermi di differenti dimensioni, ma sincronizzati, che troviamo all'interno della stazione, che mostrano in loop, tendenzialmente spot pubblicitari. La particolarità di questo schermo, rispetto a questi 68, o di altri 4, come lui, posti sopra i tornelli di uscita, è che ogni giorno i pendolari si trovavano in qualche modo forzati ad assumere fisicamente e socialmente la posizione della sua audience per una durata di tempo che andava a seconda del momento della giornata, dai 30 secondi fino ai 3 minuti, che è una quantità di tempo, vi assicuro, enorme per un luogo di transito. Nelle prossime slide cercherò di mostrare come funzionava questa Captive Odense Position, ma per farlo dovrò seguire i viaggiatori e i pendolari passo a passo per tutto il segmento della loro routine quotidiana che si svolgeva all'interno della stazione. Qui è una ricerca che ho fatto tra 2013 e 2014. Allora, la prima foto di questa nuova slide che è stata scattata dall'interno di un vagone all'apertura delle porte mostra già una Captive Odense Position, cioè all'arrivo del treno i pendolari si trovavano immediatamente o si trovano ancora immediatamente di fronte il cartellone che vediamo sulla sinistra. Da una parte, infatti, il cartellone è posizionato all'altezza adatta per intercettare la loro visuale, cioè un cartellone su ogni colonna da tutti e due i lati. dall'altra, mentre attendevano che il treno si fermasse, i pendolari si erano già disposti all'interno del vagone nella posizione corretta per trovarselo di fronte all'apertura delle porte. Il contatto con quel cartellone durava però pochi istanti, cioè giusto il tempo di girare a sinistra e di avviarsi verso l'uscita della stazione come vediamo nella seconda fotografia sulla destra. I pendolari a Cadorna arrivavano a ondate con un ritmo che era definito ovviamente dagli arrivi dei treni e che aveva un picco di intensità dalle 7 alle 8, cioè all'ora di punta. All'arrivo di ogni treno un flusso di persone percorreva le banchine verso l'uscita. Si trattava di un flusso che aumentava progressivamente via via che più persone scendevano dalla carrozza e si avviavano fuori. La freccia indica la direzione del movimento di questo flusso. Il flusso percorreva longitudinalmente la banchina fino alla fine dei minari dove poi svoltava verso uno spazio più ampio dove convergevano i passeggeri di diversi treni. Questo spazio è delimitato da una linea ininterrotta di tornelli elettronici come si vede nella prima foto che è l'unica che non ho scattato io ma che ho scaricato da internet dove era stata caricata nel 2007 quando la linea di tornelli era appena stata installata. Come potete notare mancano ancora gli schermi elettronici che verranno installati solo quattro anni dopo. In sostanza questa captive audience position è stata assemblata un pezzo alla volta. Il tornello elettronico è un dispositivo tecnologico che può funzionare in molti modi diversi. A Cadorna, prima della pandemia, i tornelli erano configurati per permettere il passaggio in una sola direzione con i tornelli centrali che permettevano l'uscita dalla stazione e quelli laterali in ingresso come anche segnalato da avvisi stampati sul pavimento che vediamo nella seconda foto. Dal 2012 i tornelli erano anche stati configurati per aprirsi solo dopo una nuova validazione del biglietto come modo per ridurre le infrazioni ma anche e soprattutto come modo per ridurre il numero di controllori a bordo del treno. cioè per dirla con la tour il compito di controllare i biglietti è stato delegato dal personale umano a questo dispositivo tecnologico e si è tradotto poi in una nuova configurazione dello spazio della stazione. Per validare il biglietto bisogna cercarlo estrarlo metterlo nella posizione corretta e inserirlo nella macchina che permette il passaggio di una persona per volta. È un'operazione che richiede tempo e che comporta ovviamente un assembramento nello spazio di fronte alla barriera ecco perché è stata sostanzialmente smantellata. Questo assembramento prendeva la forma di una coda caotica che si spingeva prima verso il centro di questo spazio lo vediamo nella prima foto e poi verso i tornelli centrali come vediamo nella seconda foto. È da questo punto in poi che i pendolari o i viaggiatori in genere entravano nella captive audience position. i viaggiatori erano trattenuti di fronte allo schermo che ovviamente è una posizione adatta per intercettare la linea visiva di chi aspetta in coda dai corpi di tutti gli altri pendolari impegnati nello stesso tempo nella stessa routine quotidiana. Questi corpi si muovevano verso l'uscita a ritmo scandito dall'aprirsi e chiudersi dei tornelli. Arrivati al tornello queste audience venivano contate dal tornello elettronico e vendute agli inserzionisti pubblicitari perché ovviamente è il numero di queste persone che definisce il valore di uno slot pubblicitario mostrato nello schermo. Una volta superato il tornello i pendolari uscivano finalmente liberi dalla captive audience position e dalla costrizione rappresentata dai corpi degli altri solo per incontrare però gli altri schermi sincronizzati che si trovano al di là della barriera come si vede nella seconda foto dove è anche possibile sentire in modo più chiaro l'audio degli schermi grazie all'effetto cassa di risonanza dato dalla volta della stazione. Ora vi vorrei mostrare molto rapidamente un secondo caso e andare alle conclusioni. Io sto tenendo il tempo 5 minuti se riesci. Sì, in 5 minuti riesco il video dura un minuto ed è una captive audience position organizzata questa volta dal basso. Grazie. Ok, ora sicuramente in questi esempi sono in gioco processi di habituation a Cadorna i pendolari erano abituati a questo segmento della loro routine a questo spazio la stazione poteva essere a loro familiare ma questo è rilevante fino a un certo punto per capire cosa sta succedendo è vero forse i pendolari non guardavano neppure gli schermi avendoli già addomesticati mentre magari un viaggiatore che arrivava a Milano quella stazione serve e malpensa arrivava magari a Milano per la prima volta probabilmente li avrebbe guardati però il discorso è che ad ogni modo sia il viaggiatore sia il pendolare abituato sarebbero stati entrambi intercettati allo stesso modo dalla captive audience position in sostanza cambia poco sapere se queste persone sono abituate a questo spazio o lo incontrano per la prima volta vengono comunque disposte nello spazio messe nella posizione dell'audience e vendute come tali allo stesso modo i significati simbolici attribuiti a questo spazio giocano sicuramente un ruolo in questi esempi è ad esempio perché ci troviamo in una stazione che è lecito anche se è seccante essere tenuti per così tempo di fronte a uno schermo in attesa di una legittima validazione del biglietto ma è anche chiaro che non bastano a chiarire come funzionano queste captive audience position in sostanza la distinzione tra spazio e luogo dell'approccio classico ci è utile fino a un certo punto luogo è un concetto sensibilizzante per dirla alla bloomer che ci sensibilizza in un modo che è almeno incompleto quello che occorre fare è cercare di smontare la captive audience position nei suoi elementi costitutivi per vedere se è possibile costruire su questi elementi una concettualizzazione più sofisticata di spazio perché chiaramente quello che è in funzione qui è un dispositivo estremamente sofisticato direi che all'attenzione per la dimensione simbolica che definisce i frame interazionali alla Goffman di questi spazi va aggiunto innanzitutto un'attenzione per le dimensioni materiali dello spazio cioè per gli artefatti materiali che si trovano in questo spazio come lo schermo o il tornello elettronico e per la loro disposizione nello spazio ma anche per la forma architettonica della stazione cioè le lunghe banchine parallele e l'ampio spazio in cui queste convergono ma in questo caso la materialità dello spazio non è semplicemente oggetto di habituation precognitiva qui questa materialità esercita da una parte una vera e propria disciplina dei corpi nel loro muoversi nello spazio dispone i corpi nello spazio dall'altra si dispone per intercettare questi corpi per intercettare la loro linea visiva si pensa ad esempio alle posizioni degli schermi o anche alla loro dimensione e luminosità questa attenzione alla materialità dello spazio però ancora non basta perché quello che ho detto che ho appena detto non è del tutto vero cioè nel senso che non è ad esempio il tornello con la sua materialità che veramente trattiene per diversi minuti le persone di fronte allo schermo in realtà a farlo sono gli altri corpi in movimento impegnati nello stesso momento nella stessa routine in quello che ho cercato di descrivere come una coreografia molto complessa in sostanza la captive audience position usa le persone in movimento per intercettare le persone in movimento le pratiche spaziali intercettate da questo dispositivo di cattura sono una parte integrante del dispositivo di cattura stesso lontano dall'ora di punta infatti la captive audience position funziona molto meno e quando non arriva nessun treno non funziona affatto cioè io arrivo e attraverso tranquillamente il tornello in sintesi questa captive audience position è il risultato di una sofisticata interazione tra i significati simbolici e i frame interazionali associati allo spazio la materialità e la struttura fisica dello spazio degli oggetti che ne fanno parte e le attività che lo spazio ospita con i corpi che le performano in geografia umana in particolare nelle teorie non rappresentazionali negli approcci non rappresentazionali e post fenomenologici questo è precisamente il modo di definire lo spazio che si definisce spazio relazionale è uno spazio che è concepito emergere dalla relazione e interazione tra elementi eterogenei materiali pragmatici e simbolici ovviamente e vado veramente a concludere adottare questa concettualizzazione di spazio porta con sé tutta una serie di implicazioni metodologiche che non riguardano solo lo studio delle pratiche mediali nello spazio urbano ma in generale tutto il campo degli audience studies con con vocazione etnografica ad esempio comporta un un modello di attore sociale che sia pienamente embodied pienamente concepito come dotato di un corpo preso in una serie di di pratiche porta a concepire quello che descrive è uno spazio in influsso quindi comporta un'attenzione per la temporalità una sensibilità ritmoanalitica per dirlo alla alle fevre e anche un'attenzione alla multisensorialità perché ovviamente c'è tutta la dimensione sonora di questi schermi di cui qui ho fatto solo brevi brevi cenni ma col tema della multisensorialità penso che si sia passando da un problema metodologico a un problema poi di metodo empirico di analisi e quindi sostanzialmente mi fermerei qui magari rimandando all'articolo in cui ho trattato questi temi che ho citato in fondo alla slide grazie mille grazie simone una relazione molto bella grazie anche per il riferimento utile che voglia approfondire e per aver messo a tema